Musica Torna la paura a Taranto dopo che Arcelor Mittal ha ribadito la necessità di ridurre drasticamente gli organici. Il governo sta preparando un piano alternativo a quello aziendale, intanto i sindacati hanno proclamato uno sciopero e una manifestazione martedì a Roma. A gennaio entrerà nella fase operativa il progetto di JSW per il nuovo impianto di Tempra per le rotaie Piombino. L'azienda dà raccorso all'ordine per la sua realizzazione. Si tratta della prima parte di un investimento da 40 milioni di euro con il quale si vuole rilanciare lo stabilimento. Bilanci d'acciaio, l'ultimo appuntamento a Venezia è stato dedicato al Triveneto e ha evidenziato il buono stato di salute delle aziende di quel territorio. Ma ha permesso anche di concentrare l'attenzione sulla siderurgia nel suo complesso e provare a fare delle previsioni sul 2020. I prezzi della filiera dell'acciaio sembrano inviare segnali di moderato ottimismo anche se non in maniera omogenea. Molti, ma non tutti i prodotti, danno infatti l'impressione di aver iniziato un percorso di crescita che sembra destinato a perdurare anche nei prossimi mesi. Benvenuti a questa nuova edizione del Siderweb Tg. Iniziamo facendo il punto sulla situazione dell'ex Ilva di Taranto. Il nuovo piano industriale presentato da Arselo Mittal Italia e i sindacati la scorsa settimana prevede un taglio radicale per quanto riguarda i livelli occupazionali e la produzione. Si parla di quasi 5.000 tagli, soprattutto nello stabilimento di Taranto, ed è un massimo di 6.000 tonnellate di produzione da qui al 2024. Un cambio di scenario netto e radicale rispetto all'accordo del 2018 che vedeva una produzione che sarebbe dovuta salire e arrivare fino agli 8 milioni di tonnellate d'acciaio. I sindacati hanno immediatamente risposto in maniera totalmente negativa a questo nuovo piano industriale, abbandonando immediatamente il tavolo che si è riunito la scorsa settimana al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma e indicendo uno sciopero generale che riguarderà tutti i lavoratori di tutti gli stabilimenti Arselo Mittal Italia e dell'indotto, dei servizi, dell'autotrasporto, dei marittimi che andrà in scena il prossimo 10 dicembre con una manifestazione nazionale a Roma in Piazza Santi Apostoli dove confueranno migliaia di lavoratori da tutta Italia grazie ai polman messi a disposizione dai sindacati. Il governo nel frattempo, che probabilmente non si aspettava questo tipo di piano, comunque un piano leggermente diverso soprattutto per quanto riguarda Italia e l'occupazione ha promesso che entro questa settimana presenterà una sua controproposta dalla quale poi molto probabilmente dovrebbero giungere insieme ad Arselo Mittal ad una sintesi visto che il 20 dicembre presso il Tribunale di Milano si svolgerà la causa civile intentata dai commissari straordinari dei confronti di Arselo Mittal in vista del recesso del contratto di affitto. Nel frattempo a Taranto si attende il risponso della Procura da un lato e del giudice Maccagnano per quanto riguarda l'istanza di proroga presentata dai commissari straordinari per avere la possibilità di effettuare i lavori previsti sull'altro forno 2 entro 12 mesi. Qualora dovesse arrivare un no da parte della Procura o del giudice i commissari straordinari si torneranno ad appellarsi nuovamente al Tribunale di Riesame che aveva già fissato entro il 13 dicembre la possibilità di effettuare questi nuovi lavori onde evitare lo spegnimento definitivo di AFO2 che secondo i programmi di Arselo Mittal Italia dovrebbe invece essere spento entro il 2023 per poi abbandonare la sua vita produttiva. Gianmario Leone, Taranto A Piombino invece JSW ha annunciato che a gennaio darà avvio al piano di investimenti previsto. La JSW Steel non ha ancora sciolto il nodo della realizzazione di una serie elettrica ciò nonostante ha deciso di investire 40 milioni nello stabilimento di Piombino. Entro gennaio sarà infatti staccato l'ordine del nuovo impianto per la tempra delle rotaie che sarà accompagnato da un adeguamento del laminatoio per metterlo in grado di produrre pezzi non saldati da 120 metri. Previsti anche interventi sul trenabarre dove sarà introdotta la lavorazione di Bordione e la GSI, società controllata, che dovrebbe così raddoppiare la produzione di serie d'acciaio destinata in modo particolare all'industria mineraria. Interventi che solo parzialmente rassicurano le organizzazioni sindacali che continuano a richiedere che sia fatta chiarezza sull'intero progetto industriale. Sempre a gennaio scadono infatti 18 mesi che l'azienda aveva previsto per lo studio di fattibilità di un'acciaio elettrica. Il progetto è tuttavia ancora in sospeso in attesa che il governo offra le garanzie chieste dall'azienda sul costo dell'energia elettrica. Un problema che ormai non riguarda solo Piombino, visto che il prossimo anno scadranno i benefici degli accordi sull'interconnector. L'azienda sta intanto faticosamente tentando di recuperare un mercato compromesso in tre anni di gestione cevita. La produzione mensile è ormai attestata su 65.000 tonnellate al mese con l'obiettivo di raggiungere in tempi ragionevolmente brevi le 80.000 tonnellate. Per accorciare i tempi di fornitura delle billette, prima proveniente esclusivamente dall'India, GSW ha stipulato un accordo di collaborazione tecnica e commerciale con le accedi di Civitate al piano ex Olifin. Giorgio Pasquinucci, Piombino. Il tour di bilanci d'acciaio 2019 si è concluso a Venezia. Noi vediamo una prospettiva abbastanza buona per il 2020. Veniamo da un ultimo trimestre assolutamente negativo. Finalmente siamo usciti, cominciamo a vedere un po' di luce. Pensiamo che il mercato cresca nel primo trimestre, sostenuto soprattutto anche dal fatto che i grossi gruppi siderurgici come Metinvest hanno ridotto la propria pressione sul mercato, quindi riducendo la capacità produttiva. E poi vediamo anche un impulso alla domanda dell'automotive, che influenza circa il 20% del consumo mondiale di acciaio. Le produzioni dovranno mantenere i livelli capacitativi medio, non innalzare subito le produzioni. Questa è la strategia che farà Metinvest all'inizio del 2020, seguire le condizioni di mercato, in modo da avere un mercato sostenibile per tutta la filiera siderurgica. Noi pensiamo che ci sia un grosso cambiamento sul mercato, rivolto molto più al servizio e alla capacità di stare vicino alle esigenze del cliente. La nostra strategia è quella di sicuramente avere sempre tutti i costi sotto controllo, produrre in accordo le necessità di mercato e soprattutto aumentare il livello di servizio al cliente. Dottoressa Sangoi, come salutate questo 2019? Diciamo che è stato un anno che è un po' da dividere in due, nel senso che la prima parte è andata un po' sulla scia del 2018, poi a partire dal terzo trimestre c'è stato un rallentamento abbastanza generalizzato. E come vi preparate al 2020? Ci prepariamo ad essere comunque sempre molto reattivi, molto vicini alle esigenze del nostro mercato, che richiedono capacità appunto di rispondere molto velocemente e quindi di assecondare la situazione che vivono i nostri clienti, cercando di dare il massimo del servizio. Dottor Baglietti, come saluta questo anno a Caglierie Venete? Salutiamo l'anno con un po' di preoccupazione. Siamo stati costretti ovviamente anche a ridurre la produzione per adeguarla ad una domanda calante. C'è stato tutto il problema degli stock, dei nostri clienti, riduzione di stock e tutto quello che succede generalmente in queste fasi. per cui lo salutiamo parzialmente con gioia per quello che riguarda la seconda parte, però dobbiamo dire che siamo abbastanza, non dico preoccupati, ma molto attenti al 2020, che potrebbe essere un anno, se tutto va bene, l'immagine speculare del 2019, per cui un primo semestre più affaticato, ma in progressione buona, è un secondo semestre positivo, però questo allo stato attuale delle cose è un augurio, non si basa su dati effettivi. E come vi preparate voi al 2020? Ci prepariamo cercando di ampliare ulteriormente il range dei prodotti, cercando di ampliare ulteriormente il range dei mercati, perché ovviamente questa è una cosa che andrebbe fatta sempre, ma ancor più si fa quando ci sono momenti difficili, e ci prepariamo anche cercando di dare il massimo della flessibilità a tutti gli impianti, in modo che sia le produzioni, sia i prodotti in sé, sia le modalità di consegne di produzione, siano facilmente adeguabili ad ogni condizione di mercato, perché i mercati oggi cambiano molto più rapidamente rispetto a un tempo, per cui diciamo che l'azienda è un po' più sotto stress per adeguarsi, sì, ma una volta ci si doveva adeguare, oggi bisogna adeguarsi in tempi velocissimi, per cui diciamo che la preparazione è un po' questa. I prezzi della filiera siderurgica, pur non in maniera omogenea, sembrano indicare che il periodo peggiore potrebbe essere ormai alle spalle, facciamo il punto con il prossimo servizio. I prezzi siderurgici si orientano al rialzo dopo gli scivoloni degli ultimi due anni. La svolta si verifica a metà ottobre, quando le quotazioni delle produzioni basilari del ciclo integrale e del forno elettrico mettono a segno un notevole rimbalzo, che si sta ripercuotendo sui prezzi dei semi lavorati e dei prodotti finiti. L'analisi è di Achille Fornasini, che chiarisce che pur in presenza di una stabilizzazione dei prezzi del minerale di ferro e del carboncock, i coils recuperano terreno trainandolo e lamiere nere. Lo stesso schema, secondo l'esperto, caratterizza i valori riferiti al contesto elettrosiderurgico, nel quale si registra un vistoso recupero dei prezzi del rottame, sia turco che nazionale, dato confermato da Assofermet, secondo la quale anche le ghise hanno registrato un rialzo delle quotazioni. Anche alcuni prodotti lunghi, come tondo, vergella da trafila e vergella da rete, fanno registrare segnali di risveglio. Non bene, invece, i tubi, sia saldati che senza saldatura. Dopo un percorso nel quale si è registrata la tendenza a potenziali rialzi di prezzo, ora il mercato è assolutamente statico. Così, parlando con Siderweb, un operatore di settore descrive la situazione. E non ci sarebbero segnali che autorizzino a pensare che la situazione possa cambiare nella prima parte dell'anno nuovo. Questa edizione di Siderweb ATG si conclude qui. L'appuntamento si rinnova, come sempre, per lunedì prossimo. Arrivederci a tutti.